Allora, l'equazione originale era questa, per prima cosa divido per A, in maniera tale che così l'equazione si dice è monica, cioè comincia con 1, il coefficiente iniziale è monica, quindi comincia con zeta 4. Poi, questa equazione la voglio scrivere come un quadrato più qualcosa. Per poterla scrivere come un quadrato più qualcosa, questo quadrato, z più qualcosa, dovrà essere fatto in maniera tale che, il quadrato mi farà 0 a 4 ovviamente, poi ci sta il quadrato di questo, e poi ci deve stare il doppio prodotto. Il doppio prodotto è di grado 1 e deve essere per forza uguale a questo. Quindi, se il doppio prodotto deve fare B su A per z, qua ci devo mettere B su 2A, per forza. Quindi, z al quadrato più il doppio prodotto fa B su 2A per z per 2, quindi fa B su A per z, e poi il quadrato di quest'altro mi fa quello che gli pare, cioè mi fa ovviamente il quadrato di B su 2A, quindi fa B quadrato sul quadrato. Quindi, tornando indietro, siccome questo quadrato è uguale a questo qui, io posso dire che questi due termini, a chi sono uguali? a questo quadrato, meno questo, e poi ci rimane tradizionale C su A, quindi abbiamo questo quadrato, meno B quadro su 4A quadro, più C su A, ma C su A, invece di lasciarmelo a parte, lo metto col denominatore 4A quadro, quindi viene 4C su 4A quadro, moltiplicando per 4A solo. Quindi lo porto sopra insieme a questo, questo è un semplice passaggio. Adesso, tutta questa espressione è uguale alla somma di questi due quadrati, porto questo dall'altra parte, portando dall'altra parte ovviamente cambia signo, quindi questo diventa B quadro meno 4C, e rimango con questa equazione qua. Ora, qui mi sono fermato, perché se stavo in R, A, B e C stavano in R, Z lo cercavano in R, devo fare la radice quadrata. Allora, le radici quadrate sono due, una doppia, oppure non ci sono, a seconda dei casi, cioè a seconda del discriminante, se questo è positivo, più o negativo, se stiamo in R. Ma qui siamo in C, questo numero sarà un numero complesso, allora io devo trovare le soluzioni dei numeri, allora, tutto questo numero, chiamatelo VW, fate la posizione uguale a VW, io ho l'equazione VW quadro uguale a questa, quindi devo trovare tutti i numeri VW che elevati al quadrato fanno quel numero là. Chiaramente? Allora, quanti sono? Allora, se io ho una soluzione del tipo VW quadro uguale a un certo W0, questa è l'equazione che stiamo studiando. Quali sono le soluzioni? Innanzitutto, quante sono? Allora, questa è l'equazione algebrica di grado 2, quindi le soluzioni sono? 2. E ci stanno sempre. Come le possiamo chiamare? Una delle due, cioè tutte e due in realtà, le chiameremo radici quadrate di Q0. Che caratteristiche avranno? Anche lì saranno uno opposto dell'altro. Ok? Facciamo un esempio, l'esempio di prima. 1 più 2I al quadrato, abbiamo detto qua, meno 3 più 4I, ma questo è uguale anche a meno 1 meno 2I al quadrato. Quindi, in questo caso, le radici quadrate di meno 3 più 4I sono 1 più 2I e la sua cosa. Con questo, però, non abbiamo risposto al problema di come trovarla. Perché quando io devo fare la radice quadrata di 9, so che fa 3, e quindi le due soluzioni sono 3 meno 3. Però, se ho la radice quadrata di 7 più 5I, come si fa? Vabbè, dice, se ne trovi una, l'altra è l'opposta. Sì, lo so, però è la prima quadrata. Chiaro? Quindi, lo sappiamo che sono due. Sappiamo che sono esattamente due. Quindi non sono 2, 1 o 0, perché la radice quadrata si potrà sempre fare. Anzi, le due radici quadrata si potranno sempre fare. Però, quello che non sappiamo è come trovarle. Chiaro? Allora, per capire come trovarle bisogna ragionare sui numeri complessi in forma trigonometrica. Allora, lasciamo soltanto l'equazione di quadrata. andiamo a scrivere Allora, noi cosa abbiamo fatto? Abbiamo, poniamo questo uguale a W questo lo chiamiamo W0. Quindi abbiamo l'equazione W quadro uguale W0. quindi tutto quel procedimento algebrico è servito a avere un'equazione generica algebrica di secondo grado e a ricondurla a un'equazione del tipo il quadrato di W fa W0. Dopodiché, il problema adesso è trovare la radice quadrata di W0. Trovare la radice quadrata di W. Complesso. Allora, questo numero complesso mi conviene scriverlo in forma non algebrica se no, non guaglio niente ma in forma trigonometrica. Cioè, se vi ricordate W0 si poteva scrivere come Rho per coseno di alfa più I seno di alfa faccio la figura questa è W0 allora Rho era la lunghezza di questo vettore di questo ecme e alfa misurato in radianti in verso anti-orario partendo dall'asse delle ascisse era l'angolo quindi ho che questo qui è esattamente Rho coseno di alfa e coefficiente della parte immaginaria è Rho seno di alfa se voglio scrivere il numero in forma diciamo completa posso scrivere Rho per coseno di alfa a chiuse allora io cosa so che succede a un numero per esempio per esempio W0 se faccio il quadrato quanto fa? lo sapete scrivere il quadrato di W0 senza fare il conto l'abbiamo visto ieri che succede ai numeri quando li moltipliano? i moduli si moltipliano e gli argomenti altri si sommano quindi W0 al quadrato chi farà? qui davanti chi ci devo mettere? Rho al quadrato perché il modulo faccio W0 per W0 il modulo è Rho per Rho e quindi viene Rho al quadrato e poi coseno di 2 alfa più di volte seno di 2 alfa questo se voglio fare il quadrato ma se voglio fare la radice quadrata chiamiamo W1 una radice quadrata di W0 chi sarà una radice quadrata di W0? deve essere un numero il cui quadrato faccia W0 cioè stavolta che devo fare? se facevo il quadrato come modulo ci devo mettere Rho quadro se faccio la radice quadrata come modulo ci devo mettere Rho quadro o no? perché quando andrò a fare il quadrato di questo dovrò fare questo al quadrato e farò per coseno alfa mezzi più i seno di alfa mezzi questa è una e l'altra i radici sono l'altra chi è? meno quindi le radici uno o due sono una col me e una col più o una col più o una col me o però però le voglio riscrivere da questa parte una doppio uno le voglio scrivere separatamente è radice di Rho per coseno di alfa mezzi più i seno di alfa mezzi l'altra il doppio due come la voglio scrivere è radice di Rho per coseno di allora radice di Rho è lo stesso perché il modulo è lo stesso quando io cambio segno a parte reale e parte immaginaria ma il modulo ovviamente resterà lo stesso cioè se io prendo un numero complesso e faccio l'opposto la distanza dall'origine rimane la stessa allora quindi vorrei cambiare invece di mettere meno davanti vorrei incorporare questo meno cambiando l'angolo qua allora quando io vado da un numero al suo opposto che succede all'angolo? quando devo aggiungere all'angolo? pi greco cioè c'è adottata gare quindi qua ho alfa più due pi greco mezzi più i seno di alfa più due pi greco mezzi che significa che l'argomento è aumentato di pi greco infatti quando l'argomento del coseno aumenta di pi greco il coseno cambia segno e il segno invece vuole quindi cambieranno segno sia questo coseno rispetto a questo sia questo segno rispetto a questo questo è uguale all'opposto di questo questo è uguale all'opposto di questo ma cambiato è chiaro? bene quindi qui adesso posso scrivere la formula scrivendo che z1 2 non è altro che meno allora posso scrivere meno b meno più la radice quadrata di b quadro meno 4ac fratto 2a o queste soluzioni è esattamente la stessa formula che avete per i numeri reali soltanto che la differenza è che stavolta questa radice basta fare il quadrato sostituire e verificare che funziona l'unica cosa che cambia è l'interpretazione della formula stessa cioè questo qui che nel caso dei numeri reali era un discriminante quindi bisognava vedere il segno stavolta è un numero complesso il segno non ce l'ha la radice quadrata di questo numero complesso si intende meno più radice quadrata si intende o meno più radice quadrata si intende una di queste due radice ok perché ovviamente se una radice quadrata è un certo numero complesso l'altra però lì si intende le due soluzioni corrispondono a devo fare meno b poi ci devo sommare una o delle due radici di questo numero complesso e poi lo divido chiaro? perfetto quindi dal punto di vista formale risolvere un'ocuazione di secondo grado sui numeri complessi non richiede alcuno sforzo concettuale superiore ai numeri reali trenne che per l'interpretazione della radice le radici nel caso reale ci stavano quando il discriminante era positivo o nullo in quel caso la radice era dubbia anche qui la radice sarà dubbia nel caso in cui sotto la radice qua ci viene zero ma negli altri casi sono sempre due e sono sempre opposti il procedimento algebrico per cui ci riconducevamo da un'equazione generica di secondo grado a un'equazione del tipo v uguale all'uguale a v uguale a zero quello funziona uguale è lo stesso ok? perché quello è algebrico l'algebra diciamo dal punto di vista algebrico rc funziona allo stesso modo ci siamo fino a qui quando la devo andare a effettivamente calcolare per esempio questa radice quadrata queste radice quadrate qua come devo fare? devo prendere quello che sta sotto la radice stavolta non lo chiamiamo discriminante perché non scriviamo per niente me lo vado a scrivere in forma diconomerica cioè così se voglio fare la radice quadrata di un numero qualunque questo sia questo numero lo scrivo così le radice quadrate visure una è radice di coseno di alfa mezzi coseno di alfa mezzi e l'altra è radice di coseno di alfa mezzi più di greco più di volte sineno di alfa mezzi preferisco invece di scrivere che è l'opposta preferisco scrivere così è la stessa cosa ma vedremo quando faremo le radici cubiche che è me perché si capirà me adesso andiamo a risolvere un'equazione di terzo grado qual è l'equazione più semplice di terzo grado allora di secondo grado l'equazione più semplice è la w uguale 1 che mi dava le soluzioni w uguale più o meno 1 prima di vedere quel terzo grado vediamo di nuovo queste equazioni di secondo grado molto semplici doppio quadro uguale meno 1 e le soluzioni chi erano? chi sono le soluzioni di queste? allora le radici uguali a 1 sono 1 e meno 1 le radici uguali a meno 1 più o meno i perché più o meno i? perché a qual lato fa meno 1 torna con quello che dicevamo prima allora guardate 1 in forma tricolometrica aveva modulo 1 e argomento 0 ci siamo? allora quando vado a quindi in questo caso questo quadro è uguale a 1 alfa uguale a 0 qua però fa sempre 1 perché la radice uguale a 1 fa 1 radice di ro a fa mezzi fa 0 a fa mezzi più pi greco fa pi greco che vuol dire che le radici di quadrate di questo hanno modulo unitario poi l'argomento o è 0 oppure è pi greco quindi le radici quadrate sono 1 e meno 1 in quest'altro caso ro è uguale a 1 alfa è uguale pi greco pi greco perché siamo a meno 1 per arrivare a meno 1 l'angolo è pi greco quando deve arrivare su quest'altro se mi re quindi l'angolo è pi greco quindi qua radice di ro deve fare 1 alfa mezzi fa pi greco mezzi alfa mezzi più pi greco fa 3 pi greco mezzi è giusto? certo perché alfa mezzi pi greco mezzi vuol dire che siamo a i pi greco mezzi modulo viene i pi greco mezzi più pi greco andiamo a finire a meno 1 quindi le due soluzioni sono più o meno quindi abbiamo reinterpretato questa per curiosità facciamole l'ultima sempre di secondo grado poi passiamo a quella di terza dobbiamo fare w quadro sembra come radice quadrata w quadro uguale i stavolta in modulo quant'è? quant'è il modulo? stiamo a u quant'è l'argomento? quant'è l'argomento di i? per arrivare a i che angolo devo fare qua? ah di greco mezzi quindi le radici quadrate chi sarà? allora il modulo farà sempre 1 fino a che i moduli sono 1 radici quadrate qualunque tipo di radice rimane sempre lusso alfa quanto deve fare? per fare la radice devo dividere? alfa mezzi no? nuovo alfa mezzi farà? di greco? guarda 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 qua è la radice quadrate poi alfa mezzi più di greco quanto fa? 5 di greco a che numerico rispondo? di greco quarti vuol dire che siamo sulla circonferenza unitaria siamo qua e chi è su? allora il primo doppio 1 deve essere 1 per coseno di greco 4 più i seno di greco 4 quanto fa coseno di greco 4? radice di 2 su 2 più i più i volte radica 2 quindi radica 2 su 2 che moltifica 1 più i o se preferite questo è già razionalizzato se non vi piace così 1 più i su radica 2 la stessa e l'altra chi sarà? sarà l'opposto cioè meno radica 2 una sarà questa e l'altra sarà questa chi è? quindi come vedete funziona tutto bene se devo fare le radice qua per comodità ho sempre preso modulo unitario perché sennò dobbiamo pure allungare e accorciare però quello è più facile un po' più difficile capire questo fatto in un caso prendo l'angolo e divido per metà in un altro caso oltre a dividere per metà poi vado su diciamo il punto diametralmente opposto è difficile? no uno si mette e fa un po' di esercizi dopo 4-5 esercizi penso che abbia capito adesso passiamo al grado 3 si non fa niente ricostruire facilmente allora aneddoto vero circa una trentina di anni fa al Dipartimento di Matematica dell'Università di Napoli che stava allora a Via Mezzocannone c'era uno stretto corridoio nel quale avevano fatto dei lavori praticamente al di là di questo stretto corridoio c'era un piccolo slargo siccome per i lavori tu arrivavi quasi girato quasi di tardi dovevi per forza guardare uscendo dal corridoio a destra e a destra c'era appoggiata una porta quindi tutti quanti passavano e guardavano questa porta dopo una decina di giorni di questo fatto qualche buon tempone scrisse una frase profonda diciamo profonda nel senso diciamo come meditazione su questa porta scrisse la verità è nell'oscurità e noi non abbiamo un spesso questo corridoio ci dovevi passare per forza per andare da una parte all'altra e una volta ogni 60 giorni dovevi leggere la verità è nell'oscurità e noi non abbiamo fatto sta che non passano tre giorni che un buon tempone più simbatico del precedente scrisse in napoletano sotto la prossima volta pagate la bolletta pagate la bolletta quindi certe volte le soluzioni sono semplici non puoi fare no perché cancellato non è un'informazione fondamentale ti metti di fare esercizio paghi la bolletta sono 5 minuti di esercizio e lo capisci pure no? perché se tu lo ripoghi stai sempre copiando quello che ha fatto un altro lo devi rifare per poterlo capire devi pagare la bolletta se no la buce non è a più chiaro? ok adesso se vogliamo un'equazione di grado tre analoga a quella precedente quale sarà mai? prima c'era un doppio quadro uguale a uno che vogliamo fa? un doppio un doppio un doppio uguale? un u cioè vogliamo calcolare quelle che si chiamano radici cubiche dell'unità allora un doppio che vuole un uguale a uno allora una uguale una fa facile è uno allora io dico che in questo caso posso andare avanti perché? cosa faccio? questo polinomio era w al cubo meno uno uguale a zero una volta che ho trovato una radice su w al cubo meno uno lo posso scrivere come ho trovato la valice u per Ruffini la posso scrivere come w meno uno per qualche altra cosa e quando è questa qualche altra cosa? w quadro più w più uno qualcuno di voi l'ha detto ma l'ha detto a memoria perché si ricorda la data di scrivere invece no w meno uno metti w quadro qua perché w quadro per w fa w più poi devi mettere uno qua perché uno per meno uno fa meno uno e poi il mezzo che ci vuole w quadro per meno uno fa meno w quadro w per w fa più w quadro che cancella poi c'hai meno w più w più w scusate che si cancella e quindi effettivamente se qua ci metti w fai il prodotto vedi che ti trovo allora questo qua a zero allora chi sono le altre soluzioni? adesso leggi l'annullamento del prodotto cosa annulla questo? cosa annulla questo? la soluzione di questo è w uno uguale a uno la soluzione di queste altre due quali sono? chi sono w un po' più 2 è 3 uno più 2 è 3 uno più 2 è 3 uno più 3 meno uno meno più la radice quadrata quant'è il discriminato? b quadro meno 4 a c uno meno 4 cioè ma la radice quadrata di meno 3 in senso complesso in senso reale diremmo che non ci sono soluzioni ma sono 3 quindi abbiamo meno 1 meno più radical 3 i non è 3 radical 3 mezzi vediamo un po' torna se li voglio scrivere in forma trigonometrica chi sono questi? a w2 chi è? meno un mezzo meno u più radical più i radical 3 mezzi cioè il modulo quanto vale? il modulo di questo numero quanto fa il modulo di questo numero? non è che ci vuole dare il modulo fa 1 e l'argomento? qual è? sulla circonferenza unitaria meno un mezzo radical 3 mezzi a quanto stiamo? quant'è quest'anno? cioè 2 integrati cioè 2 pi greco terzi quindi questo è coseno di 2 pi greco terzi più i seno di 2 di greco terzi adesso l'altra è meno 1 meno i radical 3 mezzi cioè siamo qua e chi è questa? coseno a quanto stiamo qua? a quali 5 terzi? 4 terzi questi sono 60 gradi 60 e 60 facendo vincere 120 e 120 più 40 di coseno di 4 pi greco terzi più i seno di 4 pi greco terzi a a a quindi abbiamo scoperto che le radici cubiche di 1 chi sono? sono 3 è giusto che siano 3 sì perché l'equazione non c'è perché era dichiarato 3 e dichiarato 3 le radici sono 3 in questo caso però le radici cubiche sono i vertici di un triangolo equilato ok? ho fatto un po' male ma sono un triangolo 2 triangolo equilatero ognuna di queste radici si ottiene facendo ruotare questo raggio vettore di 2 pi greco terzi cominciamo da 1 sull'asse fascista 2 pi greco terzi 4 pi greco terzi 1 2 pi greco siamo fino a qui ok va bene andiamo a vedere se allora supponiamo di avere una soluzione una equazione simile è w cubo uguale a w0 stavolta dobbiamo fare le radici quadrate non di un di uno ma di un numero w0 allora w0 è rho cosen alfa più i cosen alfa allora chi sono le radici cubiche cominciamo a scrivere la prima w1 chi sarà? a quale ci devo mettere? radice cubica di rho perché quando farò il cubo in modo che si moltiplicano questo lo devo moltiplicare tre volte quindi radice cubica la moltiplico tre volte mi darà rho poi come argomento che ci devo mettere? alfa terzi alfa terzi più i seno di alfa terzi e questa è una e la seconda guardate che la seconda è la terza se guardate il caso particolare ve ne rendete subito con il modulo sarà lo stesso il modulo non cambia perché guardate se io passo ai moduli se due numeri sono uguali anche i moduli il modulo è un numero reale e positivo quindi la radice cubica quella è quindi quando faccio qualunque tipo di radice radice cubica quarta eccetera le soluzioni della stessa radice hanno tutte lo stesso modo quindi le radici cubiche hanno modulo la radice cubica di rho le radici quinta hanno modulo la radice quinta di rho se il radicando diciamo l'elemento a destra della modulo adesso quindi W2 chi è? la radice cubica chi è? come argomento che c'è come? coseno no 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 alfa d'esco di greco 2 al pi greco l'erzi perché 2 al pi greco l'erzi perché adesso quando vado a fare un doppio 2 al cubo questo chi è? questo al cubo farò e qua mi viene coseno di alfa più 2 al pi greco più i seno di alfa più 2 al pi greco ma questo è W0 perché W0 perché o ci metto alfa o ci metto alfa più 2 al pi greco 2 al pi greco è un giro interno se io ho un numero che ha argomento alfa alfa più 2 al pi greco come argomento è lo stesso diciamo è comodo c'è un modulo un giro interno quindi quando andrò a fare il cubo W2 al cubo mi fa lo stesso W0 perché qua ho cambiato il 2 al pi greco ma quando vado a fare la radice cubica con il 2 al pi greco diviso 3 mi da luogo a una radice cubica diversa perché da qua a qua non cambia niente ma da qua a qua l'incremento non è 2 al pi greco è 2 al pi greco terzi che non è 2 al pi greco e quindi corrisponde alla radice diversa vedete qua qua alfa uguale a 0 qua alfa uguale a 2 al pi greco terzi e la radice è diversa e la terza qual è? fatemi cancellare la terza qual è? chi è il doppio re? io radice cubica di rò che moltiplica? E' il doppio che è il doppio perché W3 al cubo fa rò per coseno di afa più 4 di greco più i seno di afa più 4 di greco che fa sempre il doppio zero fa perché invece stavolta invece di fare un giro completo abbiamo fatto i due e non fa niente abbiamo finito con le radici cubiche abbiamo finito? sì, sono tre abbiamo trovato i tre perché abbiamo finito? uno potrebbe dire ma no, non abbiamo finito perché io non voglio due picrico terzi quattro picrico terzi faccio sei picrico terzi ma sei picrico terzi quant'è? allora questa era la prima radice due picrico terzi vai qua due picrico terzi vai qua due picrico terzi torni a quella di prima cioè dopo tre le radici si ripetono quindi non stai producendo una nuova radice quindi vedete che la teoria coincide con la pratica la teoria dice che le radici cubiche devono essere tre e la pratica dice se ne hai una ogni due picrico terzi quando hai finito il giro le hai trovate esattamente tre quando arrivi alla quarta è la prima ripetuta chiaro? ora in generale come saranno disposte queste radici? allora facciamo una figura se la prima stava qua mettiamo che la prima stesse qua questa è la W1 la seconda starà qua e la terza starà qua questo è sempre 120 gradi 120 120 120 cioè non è detto questo è un caso particolare la prima radice era una radice reale quindi partivi da zero qua la prima radice parte da A l'alfa non lo sappiamo ha detto in generale diciamo in questo caso l'alfa era circa 80 gradi poi ci devi aggiungere 120 e poi 200 gradi vai sì a 200 gradi un po' più sopra e poi ci devi aggiungere altri 120 e vai a 200 gradi più o meno il disegno adesso è quasi potente cioè le radici cubiche di un numero complesso W0 sono sempre i vertici di un triangolo equilatero iscritto in una circonferenza di centro origine una volta che hai trovato il primo vertice e gli altri due sono facili devi spostare su quella circonferenza di 2π3 di un terzo e 2π3 come ha chiaro? va bene vediamo se sono le 4 e 5 milioni ok